Dal 13 maggio ad oggi Avis non si è mai fermata nel raccogliere le sacche di plasma iperimmune. La donazione si può effettuare presso il centro trasfusionale di Pesaro. Per farlo dovete prima contattare Avis, le nostre segretarie Roberta e Milena vi cuoieranno a braccia aperte e abbiamo attive una linea telefonica 0721 31466 e un numero di Whatsapp che è 388 580 4671. Ad oggi sono state raccolte circa 500 sacche di plasma iperimmune da 200 millilitri l'uno. La somministrazione del plasma avviene in circa 3 dosi per paziente ma abbiamo dati forniti dall'ospedale che già dopo la prima somministrazione ci sono degli effetti positivi sul ricevente. Quindi non dobbiamo assolutamente fermare questa donazione, anzi se è possibile incrementarla. Le Marche sono state tra le pioniere in Italia in questa raccolta. I nostri centri sono a Pesaro, il principale, poi c'è anche Torrette e Fermo. Quindi per Marche Nord è Pesaro e Torrette. Quali sono le caratteristiche del donatore del plasma iperimmune? Ovviamente deve aver contratto l'infezione da Covid, averla superata e quindi essere in stato di buona salute. E avere un numero di anticorpi adeguato alla donazione. Questo lo valuterà il centro trasfusionale. Quindi noi come Avis dobbiamo far passare il messaggio che c'è l'opportunità di avere un'arma in più contro questa malattia. Quindi i potenziali donatori possono contattare l'Avis. Per il resto poi Roberta e Milena vi indirizzeranno per effettuare la donazione.